Buongiorno, mi chiamo Bruno, ho 62 anni, 5 anni fa insieme al dottor Antonini scoprimmo che avevo un tumore alla prostata, di conseguenza mi operai a giugno, tutto bene, solo che mi portò delle complicanze riguardo all'elezione. Provammo vari metodi, tra cui le punture sul pene, il Viagra, il vacuum device, però senza risultati apprezzabili, anzi. A quel punto il dottore decise di fare l'impianto protesico, ma adesso sto benissimo, sono passati 5 anni da poco e devo ringraziare il dottore che mi fece questa protesi. È uguale, è la stessa cosa, il government è uguale, l'orgasmo che io mi ricordo 5 anni fa, però è uguale, non ci sono, sì forse qualche piccola differenza, però comunque dobbiamo capire che io stavo, non avevo più rapporti, adesso ho rapporti per cui va benissimo così. Io consiglio vivamente chi ha questi problemi di contattare lui, di contattare qualcun altro, comunque di fare qualcosa perché la condizione della non-elezione è molto complicata, uno può andare anche in depressione ed era quello che mi stava succedendo a me. Adesso ringraziando Dio sto bene e senza problemi. Sto bene, sto magnificamente, senza problemi, assolutamente.